Questo è lo striato d'Italia. Adesso è cresciuto, ha cambiato colore, è diventato giallo, ma prima era grigio e verde. Andiamo a vedere com'è dentro, come sono dentro i semi. Io avendo fatto crescere il zucchino bello grande e raccogliendo adesso è diventato spugnoso, vedete? Praticamente adesso i semi non sono sporchi, ma questi sono vuoti, io raccolgo quelli più grossi, non sono sporchi, cioè praticamente non serve neanche lavarlo. Ecco, raccolgo quelli che più mi interessano quelli più grossi. Guardate già qua ne ho una vintena, 20 là fa 40, ne pianterò una decina e poi basta. Grazie.